Il comune di San Gregorio nelle Alpi accoglie Sospirolo nella Cerra Monte Pizzocco. Parliamo di quelle comunità che aggregano produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. Costituita nel territorio san gregoriese a fine novembre sotto forma di associazione senza scopo di lucro, essa permette a chiunque sia interessato di iscriversi e godere di benefici economici e di sostenibilità legati all'utilizzo di produzione e consumo di energia pulita. Questa Cerra peraltro fa riferimento alla cabina primaria di Sedico, per cui possono potenzialmente aderire anche cittadini di Sedico, Santa Giustina e in parte Limana e Borgoval Belluna. Per aderire alla comunità energetica Monte Pizzocco è sufficiente collegarsi al sito Ceramci e iscriversi e scegliere comunità energetica Monte Pizzocco in cui vengono richiesti i dati del contatore piuttosto che di residenza, se si è proprietario di un impianto quanti kg sono installati, se si prevede di installare un impianto in maniera tale da raccogliere un po' dei dati e poi dopo metterli insieme per fare delle proposte ai soci futuri che vorranno aggregarsi alla comunità. Già oltre 40 i soci registrati nella Monte Pizzocco, ma le adesioni continuano ad arrivare. Oltre che i benefici in bolletta giocoforza più o meno evidenti a seconda se si è anche produttori o solo consumatori, realtà pubbliche come le amministrazioni comunali dei comuni sotto 5.000 abitanti hanno modo di ricevere incentivi a sostegno dell'installazione di impianti rinnovabili, nonché risparmiare sui costi e salvaguardare i bilanci pubblici. Noi abbiamo fatto il calcolo che riuscendo a fare gli impianti sui nostri edifici, che sono le scuole e il municipio, che sono edifici vissuti durante le ore centrali e la giornata, riusciamo a risparmiare circa il 50% della spesa energetica e quindi questi soldi dopo li possiamo reinvestire su altre attività verso il sociale.